ragazzi e ragazze rieccoci in questo nuovo video su the sims 4 allora dall'ultimo live ci siamo lasciati col personaggio dove abbiamo creato la piscina fuori degli alberi allora adesso il sims mi chiede subito di cucinare quindi noi cerchiamo di farlo cucinare ok eccolo il tuo sim ha acquisito l'abilità di cucina esistono anche molte altre abilità delle quali può raggiungere la maestria apri il pannello per saperne di più ok quindi bene così andiamo a vedere nel pannello cosa ci dice cucina ok ci sono vari livelli ok ok cerchiamo di iniziare una carriera lavorativa vediamo no perché ok quindi bisogna trovarlo bisogno quindi adesso credo che dobbiamo andare in bagno perché appunto è disagio ecco la carriera facciamo letto scelicci dall'area l'ora vacanze disponibili tre giorni al lavoro fra due giorni la doccia ok ci laviamo i denti perché è molto importante tenersi i denti puliti ecco soddisfatto ok quindi abbiamo migliorato l'umore del sims ok quindi dovremo socializzare per migliorare l'umore e finito di farti la doccia ok 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 e le mani i denti ma ragazzi ma la realisticità addirittura ok perfetto abbiamo migliorato l'umore compro un giocato ecco per fare una porzione multipla ok allora io direi che abbiamo bisogno di socializzare quindi qui se troviamo sims bene si eccolo qua non si può andare qui la ecco Ecco lì. Ecco lì. Per la prima volta nella storia del gioco un'altra persona entra nella casa. Vediamo cosa possiamo dire. Vediamo della giornata. Vediamo la giornata. Vediamo la giornata. Vediamo cosa succede. Attenzione perché potrebbe succedere. La casa va a fuoco. Ok 50 di esperienza per quanto riguarda anche la cucina. Bene. Mentre l'altizio se ne è andato. E adesso praticamente stiamo mangiando. Ebbene ragazzi direi che questo video può terminare qua. Adesso stiamo migliorando le caratteristiche del sims per renderlo unico nel suo genere. E nel prossimo video andremo avanti ancora con queste cose cercando di migliorarlo. Bene ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.